ciao sono paolo baci vi presento questa automobile ma con la funzionalità di un camper un bel fonda dom su meccanica ford un xscape fxl cosa c'ha di caratteristiche è un camper che posti letto 3 ma 4 e da usare durante cioè il viaggio se volete vedere la scheda cliccate nella parte in alto si aprirà la nostra scheda del sito e vedrete tutte le caratteristiche di questo camper e poi mi raccomando iscrivetevi al canale youtube al nostro canale youtube e cliccate sulla campanellina che sarete sempre aggiornati sui miei nuovi video su quelli di andrea e quelli di nicoletta per il market andiamo a vedere sto camper questa è la soluzione del letto singolo come vedete è un singolo abbondante per cui anche due bambini nel caso siccome i posti viaggio sono quattro due bambini ci stanno tranquillamente questo vi faccio vedere ora nel caso i piedi si mettono da quest'altra parte eccomi qua quindi è un singolo come vedete io ci sto veramente bene per cui due bambini io sono anche un po un po tondotto quindi due bambini due ragazzini ci stanno tranquillamente quattro posti letto ci sono la fonda non me le dà per tre però quattro sono tranquilli anche perché quattro come dicevo sono i posti viaggio e ora andiamo a vedere il tavolo quel tavolo incassato nello sportello lo prendiamo e mettiamo qua con la zampa centrale allora c'è anche come kit il tre piedi che si può prendere il tavolo e metterlo fuori e quindi vedete 123 tranquillamente ma seduto il quattro e poi ci sorganizza un attimino oppure mettendolo fuori con delle seggioline si può stare tranquillamente in quattro il movimento del sedile abbastanza semplice però non ve l'ho fatto vedere qua il tetto è alto che ora poi vi faccio vedere che non sempre è veramente semplice è una sono dei pistoni come vedete che quindi si spinge in su questo è un contenitore questo un altro contenitore della cucina e cosa c'è di in più su questo camper il bagno pensate che un 5 40 e guardatemi eccomi qui c'è il water con la sua chiusura e qua c'è un piccolo contenitore del bagno e poi il lavandino il lavandino che si può sfilare e quindi io anche qui mi posso fare una piccola doccia veloce oppure meglio una doccia all'esterno aprendo lo sportello posteriore che rapporto vi faccio vedere cassettiera e frigorifero e altra cassettiera sotto e qua sono a letto come vedete due una due finestre con la zanzariera quindi centraria e poi il davanti che c'è luminoso ma è chiuso quindi comodo letto matrimonio e poi si alza il letto e così si vive bene la zona gioco qui un altro contenitore qui il contenitore per la bomba del gas che serve solo per i fornelli e qui è la cassetta del vc come vedete anche per fare fuori la docetta semplice qui occorre razionalizzare bene lo spazio e molto spesso anche appoggiarsi a campeggi quindi se vi ha incuriosito questo video questo mezzo vi invito a venirci a trovare perché ve lo potremo spiegare meglio potete capire le dimensioni e come lo abitate voi e la vostra compagna compagno o famiglia e come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravambaci ciao